Dopo Italico, Elsa Flacco torna in libreria con Augustea, pubblicato da Chiare Edizioni. La scrittrice abruzzese di Guardia Grele, insegnante di materie letterarie al liceo scientifico e impegnata in attività culturali sul territorio, già autrice di biografie, saggi e testi teatrali, e al suo terzo romanzo storico. Augustea continua la storia dei due protagonisti del romanzo precedente, Italico, cioè Gaio Asinio Poglione e Cecilia Metella Celere. Ho voluto dedicare un romanzo a Poglione, perché si tratta di un personaggio della nostra terra, di origine marrucina, lui era di teate, marrucinorum, ma diciamo che ha fatto una grande carriera a Roma, è stato uomo politico, è arrivato al consolato, è stato generale di Cesare, è stato scrittore, poeta e storico. Essendo avversario di Ottaviano Augusto, la sua figura è stata messa in ombra, e quindi ho voluto così restituirgli un po' di vita, rendendolo protagonista di un romanzo. Prima c'era Italico, che era ambientato nell'epoca appunto di Cesare, quella della giovinezza di Poglione. Invece con Augustea faccio un salto in avanti di vent'anni, riprendo i due protagonisti, Asinio e Cecilia, vent'anni dopo, nei primi anni del Principato Augusteo, quando il clima politico e culturale è molto diverso, è molto cambiato, e quindi diciamo loro si trovano a fare i conti con questa nuova realtà. La base di questo romanzo è ovviamente storica, e quindi bisogna cercare di essere rispondenti alla verità. Per me il romanzo storico è un qualcosa di molto più semplice, dal mio punto di vista, perché io nasco come saggista, quindi sono anni che scrivo di storia, di letteratura, per cui mi muovo un po' nel mio ambiente. Naturalmente in un romanzo bisogna aggiungere la fantasia, l'immaginazione, la storia, anche per motivi professionali, la storia romana, la insegno da tanti anni, la letteratura latina, e parlo di letteratura latina perché tra i personaggi anche importanti di questi due romanzi ci sono i poeti, i poeti che in quell'epoca erano molto legati al potere politico, e quindi determinano anche, diciamo, gli eventi storici in un certo senso. Quindi se Catullo era fondamentale nella vicenda di Italico, in Augustea predominano le figure di Virgilio, e soprattutto Orazio, entrambi molto amici di Asinio Poglione, però appartenenti al circolo di Mecenate, quindi altrettanto vicini ad Augusto. Ci sarà un prosieguo? Ci sto pensando, perché in effetti il finale di Augustea è aperto, così come lo era quello di Italico, per cui mi riservo di dare un seguito a questa storia, anche perché da dire c'è ancora tanto, e la storia romana è una vera e propria miniera di fatti, di storie d'amore, di storie di omicidi, di delitti, e anche di spionaggio, se vogliamo, quindi non escludo di proseguire ancora per un po' su questa linea.